se avanzate dei pezzi di torta oppure dei pezzi di barrette proteiche del giorno prima e non sapete come usarle potete fare queste coppette al caffè un dessert semplice e veloce da fare per fare la bagna al caffè allungate con un po d'acqua o un po di caffè oppure preparate un caffè lungo vi lascio qui sopra il video per fare la crema pasticcera ciao 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 ancora fatto iscriviti al mio canale grazie e arrivederci al prossimo video